Dopo il pedone investito nella mattinata di giovedì e ricoverato con l'elisoccorso all'ospedale di Catanzaro in gravi condizioni, a distanza di 24 ore ancora un incidente a Piscopia o frazione di Vivo Valencia e sempre in via Mesima. Un auto con a bordo un uomo di 71 anni è andato a sbattere contro il camion della nettezza urbana. L'impatto ha provocato diverse ferite e contusioni al conducente dell'auto che è stato trasportato in ospedale. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per cercare di comprendere la dinamica dell'incidente.